Ciao amici, sono Fabrizio Fontana, alias Capità Mentosa, e vi aspettiamo al grande doppio evento del 26 maggio a Sabbioneta. Alle ore 17 la Nazionale Italiana Comici scendereà in campo contro una rappresentativa locale al campo sportivo di Vigoreto, in via Satuario. Alle 21.30 sederemo sul palco dello spalto Bresciani di Sabbioneta per uno spettacolo di cabaret. Durante gli eventi saranno presenti postazioni di street food. Ah, se magna. Gli incassi delle due manifestazioni importanti saranno devolute all'Associazione Amici dell'ospedale Oglio Po, associazione di volontariato che opera in diversi campi della salute come oncologia, infanzia e la cronicità. Quindi mi raccomando, vi stimo e vi incoraggio, dovete esserci. E se citivi. La chiamata raccolta è di Capitan Ventosa che ha già illustrato anche il programma. Come così, domenica 26 maggio, un evento importante per tutto il territorio andrà in scena a Sabbioneta al campo di Vigoreto. La partita di beneficenza di ingresso libero anticipa peraltro un altro grande appuntamento. I comici di Zelighe e Colorado, terminata la gara, si sposteranno a Spalto Bresciani dove si esibiranno dando prova del loro talento nella comicità in uno spettacolo per tutta la famiglia. Lo spettacolo inizierà alle 21.30. L'ingresso sarà consentito con un biglietto di 10 euro, il cui interno ricavato andrà all'Associazione Amici dell'ospedale Oglio Po. Presente a Sabbioneta, il 26 maggio, per la partita dello spettacolo, saranno i comici Stefano Vogonia, Stefano Chiodoroli, Claudio Batta, Gianluca Impastato, Alessandra Ierse, Fabrizio Fontana, Filo Fontana, Francesco Rizzuto, Laura Mani, Max Pieriboni e Mister Axe. All'iniziativa prenderanno parte anche alcuni calciatori del Mantua, ne ho promosso in B per le premiazioni. La partita dei comici sarà peraltro anticipata alle 14.30 dal triangolare del Memorial Carlo Busi. La prima giornata dello stesso Memorial sarà sabato 25, in campo, formazioni giovanili del territorio.